Arrivò un chiarimento dal fisco sull'obbligo del DURC di congruità, sull'obbligo di indicare il contratto nazionale applicato per i lavori edili superiori a 70.000€ per usufruire dei bonus edilizzi. Quindi qualsiasi bonus edilizio, se è super bonus, bonus casa, sisma bonus, tutti quei lavori che possono essere agevolati con i bonus per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica della casa, se superano per i lavori elencati nell'allegato del Decreto 81-2008, cioè il testo unico della sicurezza, l'allegato 10 se non ricordo male, c'è l'obbligo di indicare il contratto applicato. Te ne parlo tra poco, è una risposta molto semplice, come sempre ti ricordo che se vuoi sostenere il lavoro che faccio online e accedere alle risposte e farmi delle domande, puoi usare il link Patreon in descrizione e abbonarti o su YouTube o su Patreon. Per usufruire dei bonus edilizzi, quando i lavori superano i 70.000€ da maggio 2022, corre l'obbligo di indicare nel contratto e nelle fatture il contratto collettivo applicato, il contratto collettivo nel settore edile. La domanda posta all'agenzia, che risponde attraverso Fisco Oggi, riguarda il mancato adempimento nelle fatture, perché l'obbligo è da indicare sia nel contratto che nelle fatture. Se dovesse mancare nelle fatture è un problema? L'agenzia risponde che, nonostante sia obbligatorio indicarlo anche nelle fatture, se non viene indicato nelle fatture, comunque non si perde il bonus edilizio. purché però sia indicato nel contratto fondamentale e poi ci deve essere una dichiarazione dell'impresa sul contratto applicato. Perciò non si perde il bonus. Ti ricordo che il DURC di congruità è un adempimento che deve essere fatto in corso d'opera, il DURC verrà rilasciato poi a fine lavori prima del saldo, con determinate regole. Ti consiglio di sentire il commercialista, c'è un decreto attuativo che il decreto, l'avevo segnato se non sbaglio, ma non lo ritrovo. Il DM 143 del 2021, ci sono delle tempistiche precise, è opportuno questo, cioè è obbligatorio, è un adempimento obbligatorio per combattere il lavoro nero, perché bisogna che la manodopera sia congrua con il tipo di lavorazione che si sta eseguendo. Ci sono dei parametri ben precisi, anche per quanto riguarda la sicurezza, per il calcolo della manodopera, per il calcolo del costo della sicurezza, è necessario valutare per ogni tipologia di intervento la manodopera che è standardizzata. Quindi per un determinato lavoro servono determinate ore di lavoro. Se questo rapporto non riporta, non è congruo rispetto a ciò che viene dichiarato e ciò che viene fatturato, scatto all'allarme. Ma questo è un adempimento che non riguarda te che stai, il proprietario che stai eseguendo i lavori, è un adempimento che riguarda l'impresa. Però sappi che ha delle ripercussioni anche sui bonus edilizi che stai applicando o che vorresti applicare. Ti ricordo, e siamo arrivati alla fine, che ti aggiornerò nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sulle novità che verranno introdotte normativamente, perché abbiamo già parlato della bozza, della legge di bilancio, che non contiene proroghe o modifiche alla cessione del credito, contiene delle norme che vanno a fare cassa con il super bonus. Non si parla di riordino, non si parla più di riordino, non si parla più di proroga, anche se qualcuno confida che verrà comunque fatta. Ti aggiornerò per tempo, tieni sotto controllo i contenuti del canale, lascia mi piace, attiva tutte le notifiche, ci vediamo al prossimo contenuto.